buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di welcome in prestito si oggi presentiamo assicurasi la società di broker assicurativo facente parte della holding h2b ho qui con me l'amministratore vincenzo faraone ben trovato vincenzo grazie francesca è un caloroso saluto a tutti i consulenti che ci seguono nella nostra emozionante programma welcome in prestito si cominciamo parlando della recente acquisizione di megaassi fin srl da parte di h2b come si è integrata questa operazione all'interno di assicurasi l'integrazione di megaassi fin nella holding h2b ha rappresentato un passo fondamentale consentendo di incorporarla all'interno della nostra società assicurasi questo ha portato alla creazione di una nuova struttura organizzata e già operativa oggi assicurasi può contare su un efficiente back office composto da cinque risorse altamente qualificate in ogni divisione tale consolidamento ci permette di offrire ai nostri consulenti un servizio specializzato e altamente qualificato garantendo un supporto completo e personalizzato parlando di specializzazione quali sono le principali divisioni coperte da assicurasi e come supportate i professionisti all'interno del gruppo h2b assicurasi si distingue nella divisione assicurativa chiave con particolare focus sull'rc auto rami elementari filiossioni polizia vita cpi e in camp protection con oltre 10 accordi con primari partner assicurativi offriamo una gamma completa di soluzione inoltre formiamo ai nostri professionisti del nostro gruppo un'evoluta piattaforma informatica che ci consente loro di confrontare le migliori offerte del settore assicurativo gestendo l'amministrazione in un nuovo ambiente con srm avanzato parlando di vantaggi per i professionisti come assicurasi contribuisce a migliorare l'offerta dei professionisti di prestito sì la creazione di valore costituisce un pilastro fondamentale all'interno del nostro gruppo e assicurasi ha pienamente abbraccio i valori che caratterizzano l'intero h2b ci impegniamo con determinazione nel sostenere i nostri consulenti adottando un approccio costruttivo e orientato nella risoluzione dei problemi desidero sottolineare che tutti i consulenti di prestito sì finance spa come quelli della società rental sì e prestito sì automotive possono godere di un vantaggio e della nostra collaborazione e accedere alle nostre offerte e alle condizioni più vantaggiose questa apertura mira a creare un ambiente in cui ogni professionista del nostro gruppo h2b possa beneficiare di un brokeraggio strutturato garantendo loro le migliori condizioni economiche disponibili sul mercato vincenzo parlando di valore quale potrebbe essere il valore aggiunto di assicurasi certamente far parte di un ecosistema come quello di h2b che mette al centro dei professionisti e strategicamente competitivo per assicurarsi la massima priorità e garantire la qualità del supporto e l'efficienza questo impegno si traduce in accordi diretti con compagnie assicurative che permettono di rispondere alle esigenze principali dei nostri clienti nell'implementazione di strutture informatiche innovative dell'impiego di analisti specializzati per ogni indivisione oggi assicurasi è in grado di garantire tutto ciò questa approfondita tensione e fornire un supporto di alta qualità si riflette nella nostra dedizione e creazione un ambiente che non solo soddisfi le esigenze dei nostri clienti ma che anche valorizzi e sostenga i professionisti che fanno parte del nostro universo la sinergia tra accordi mirati tecnologie dell'avanguardia e competenze specializzate ci consente di offrire un servizio completo e orientato all'eccellenza grazie Vincenzo per averci illustrato come è strutturata la società assicurarsi grazie Francesca per aver condiviso questa esperienza insieme la collaborazione migliore nasce dalla comprensione profonda di ciascuna esigenza volevo ringraziare tutti per aver dedicato del tempo al nostro team e presentarvi i nostri servizi vorrei finire con una citazione di Steve Jobs l'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai